Secondo pareggio consecutivo per il Rimini che in un Romeo Neri finalmente aperto al pubblico non va oltre l'1-1 contro il Seravezza. Nei primi dieci minuti le squadre si studiano ma è il Rimini a passare in vantaggio poco prima del quarto d'ora. Corner di Massetti dalla destra, testa di Gigli e palla in rete. I biancorossi gestiscono senza patemi al 34esimo, si fanno pericolosi dalle parti di Orsini sempre da calcio d'angolo. Questa volta Ricciardi pesca ferrante che vede il suo colpo di testa allontanato dalla retroguardia toscana. A cinque minuti dallo scadere della prima frazione il Seravezza si fa vedere dalle parti di Scotti. Bortolotti dalla tre quarti crossa per Mussaffi che ruba il tempo ai difensori biancorossi ma non inquadra la porta. È l'ultimo sussulto di un primo tempo noioso. Nella ripresa pronti via il Rimini va subito vicino al raddoppio. Discesa di Massetti che dal fondo trova la corrente Pecci. La sua conclusione viene murata da un difensore ospite ma la sfera arriva tra i piedi di Vutai che si divora un rigore in movimento. Come nel più classico dei copioni gol sbagliato, gol subito. Al 63esimo pareggio del Seravezza con Grassi, abilissima a sfruttare un velo di Veratti a fulminare Scotti con un rasoterra millimetrico. Nel Rimini entrano Nigretti, Lugnan, Ambrosini e Casolla e nell'ultimo dei 5 minuti di recupero è proprio Casolla ad avere sui piedi il gol vittoria ma la sua girata dall'interno dell'area piccola trova la miracolosa deviazione del portiere ospite. E questa l'ultima occasione di un match equilibrato che ora vede le Rimini attardate in classifica con solo i 5 punti in 4 gare.